Dove è stata lasciata Elisa tra le 14 e 15 e le 15 di domenica 25 agosto? In questi 45 minuti sarebbe avvolto il mistero della scomparsa della 28enne piacentina residente con la famiglia Borgo Trebbia. Nell'assicurazione in cui lavora con il padre, Elisa tre anni fa ha conosciuto Massimo Sebastiani, 45enne residente alle porte di Carpaneto, un operaio con il quale condivide la passione per la natura e l'agricoltura, un amico per Elisa, mentre Massimo parlava sempre di lei e racconta chi lo conosce. Domenica hanno pranzato insieme in una trattoria di Ciriano come hanno fatto altre volte e sono usciti poco dopo le 14. Nulla di strano hanno notato i ristoratori. Alle 15 Massimo è andato a Sariano a casa di un amico dove ha bevuto qualcosa, poi alle 16.30 è entrato con i vestiti bagnati in un bar di celleri. La sera ha cenato con un'altra amica a Vigostano, dal ristorante è uscito alle 22, l'ultima segnalazione risale a mezzanotte dove una conoscente in auto lo ha incontrato mentre camminava a piedi nel buio sulla strada di Sariano. Nella notte i genitori di Elisa, allarmati perché la figlia non era tornata e aveva il cellulare staccato, mentre Massimo non rispondeva, hanno chiamato i carabinieri. L'auto del 45enne era davanti alla sua abitazione di Campo Grande alle porte di Carpaneto. A bordo c'era il suo cellulare. Abitazione e automobile sono state ispezionate dal reparto scientifico dei carabinieri. La procura ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. Le indagini dei militari proseguono senza sosta e al momento non escludono alcuna ipotesi. La prensione cresce. Le forze dell'ordine hanno condiviso sui gruppi di vicinato la foto della Honda Civic grigia di Sebastiani. Se qualcuno l'avesse vista tra le 14 e le 17 nel comune di Gropparello, è pregato di contattare la Polizia Municipale al numero 800 200 213.